E dunque altra vittoria del Monza ancora una volta in casa e ancora una volta all'ultimo secondo Monza che continua a vincere e adesso continua anche a convincere La classifica adesso ci sorride e siamo in piena zona playoff Ciao ragazzi pure i bianco rossi e benvenuti in questo nuovo video sul canale Oggi ragazzi siamo giocati per il post partita del giorno dopo di appunto la partita che si è giocata ieri Ovvero Monza San Benedettese terminata con un rocambolesco 3 a 2 appunto grazie al gol finale di Anastasio Praticamente è esploso il brianteo dopo il 3 a 2 Una partita devo dire abbastanza bella da seguire perché diciamo che già vedere 5 gol non è cosa da tutti i giorni Inoltre con questo Monza che ci aveva abituato a 0 a 0, 1 a 0, 0 a 1 Andava bene 2 a 1, 2 a 0 però insomma sia un attacco che non segnava molto e sia una difesa che non faceva penetrare molto Diciamo che ieri è stata veramente una bella partita sotto questo punto di vista Ma è stata anche una bella partita anche perché c'era la nostra curva, c'era la curva della San Benedettese che era molto folta Saranno state una cinquantina, centinaia di persone a supportare anche la San Benedettese Quindi diciamo che era una bella atmosfera rispetto magari anche ad altre partite E tra l'altro c'erano anche a vedere la partita il solito Bobo Vieri con cui ho fatto ancora la foto C'era anche Carlo Pellegatti e anche pensate un po' Fabio Capello ragazzi Due milanisti purtroppo ho fatto la foto con tutti però mi dispiace solo che siano milanisti Però vabbè a parte questo c'erano anche loro quindi vedete che il Monza sta cominciando a prendere piede anche sotto il livello della popolarità Perché ogni volta ci sono almeno 2-3 persone famose che appunto sembra cosa da nulla Però insomma avercele non è cosa da tutte le squadre di Serie C e anche Serie B Comunque chiusa questa prima breve grande parentesi Parliamo della partita perché come vi ho già detto è stata una partita molto intensa, molto carina Sbloccata quasi subito grazie alla rete di Andrea Brighenti Uno dei nuovi acquisti che ieri ha giocato molto molto bene sotto il mio punto di vista E sono contento che si sia sbloccato perché è un giocatore che può essere davvero davvero tanto importante per questo Monza Quindi molto molto bene il gol di Andrea Brighenti Dopodiché l'azione dopo, cioè abbiamo fatto gol e comincia la partita La San Venezia va di là, calcio di rigore Ragazzi tra l'altro calcio di rigore molto dubbio A noi non ce ne hanno fischiati 1-2 che sembravano abbastanza palesi Però l'arbitro veramente ieri è una schifezza Uno scempio Comunque ha segnato il rigore alla San Benedettese e gol 1-1 E vabbè si ricomincia dalla situazione di parità Tra l'altro, lo ripeto, tutte queste cose le trovate nella reazione live Che appunto è il video precedente a questo Quindi mi raccomando andate a vedere anche la reazione live Perché ho fatto appunto i video Comunque dopo l'1-1 arriva per fortuna il 2-1 Grazie alla rete di Ettore Marchi Anch'esso nuovo acquisto che viene dal Gubbio Appunto si è sbloccato anche lui Una cosa molto importante perché in queste partite Rispetto a Brighenti magari aveva fatto vedere qualcosina di più E sono contento anche per il gol di Ettore Marchi Che anche ieri ha fatto diciamo la sua sporca figura Dopodiché arriva ancora il 2-2 della San Benedettese Che non ci molla grazie al gol di Stanco Se non mi sbaglio E poi alla fine ragazzi Credo il peggiore in campo anche ieri E il peggiore di queste ultime partite Ovvero Anastasio Ce la butta dentro Un gol molto molto bello E ragazzi Alla fine esploso tutto lo stadio Veramente molto molto bello E soprattutto un gol fondamentale Perché come avevo già detto eravamo a più 1 della San Benedettese E adesso siamo a più 4 Ma cosa più importante adesso siamo quinti in classifica Siamo stabilmente in zona playoff E perché no magari si può puntare anche a qualcosina di più del quinto posto Perché adesso è la terza o quarta vittoria consecutiva in casa Quindi comunque stiamo cercando di creare un ambiente Una sorta di casa del Monza Che sia impenetrabile Lo stesso Adriano Galliani Proprio due giorni fa Rilasciato le dichiarazioni Che appunto è praticamente una squadra fuori quota Perché si vede comunque anche in campo Che la differenza tecnica comunque c'è La squadra si deve un po' amalgamare ancora Io personalmente non sono un sostenitore massimo di Christian Brocchi Però me lo tengo tranquillamente Assolutamente Finora i risultati stanno arrivando A parte la prima brutta Prima esperienza appunto Delle prime partite di Christian Brocchi Però dopodiché la squadra Diciamo che i risultati li ha portati A casa Quindi questa è la cosa che Alla fine conta di più Quindi ragazzi puntiamo a qualcosa di più di questo quinto posto Si vede che siamo forti Probabilmente il primo posto è cosa praticamente impossibile Perché il Pordenone continua a correre Ed è troppo avanti rispetto a noi Però ragazzi il sogno Serie B Si sta sempre più concretizzando Davanti ai nostri occhi abbiamo una squadra Che può tranquillamente puntare alla Serie B A partire da questa stagione Non sprechiamo questa occasione Subito perché comunque ragazzi Io ci credo Ci dobbiamo credere tutti Ragazzi sempre Forza Monza Fatemi sapere voi che cosa ne pensate Della partita di ieri E se eravate appunto allo stadio Brianteo Mi raccomando lasciate un like E iscrivetevi al canale Se siete veri monzesi Qui ragazzi siamo Forza Monza Ci vediamo in un prossimo video Bella